avete capito raga sto mangrappato che mi avrà rubare il profilo clicca qui hai vinto la carta e tu hai vinto questo bloccato subito bloccatelo tutti raga perché può menzionare chiunque sto sozzone sciagallo dei profili fatte vedere in fascia che tu dico io poi come non rispondono quando gli fai la videoiammata me te mangiavo per telefono a sciagallo dei profili io te pensi che i miei 8 mila follower quasi te li venga da te ma batta a fa una pastricciata al sozzone ma questo è un povero sciocco pensava che mi poteva rubare il profilo chissà quante persone avrà attaccato sto deficientello tu sei un povero sciocco ma tu ti pensi che io ho la barba bianca così a caso guarda che barba domani ma io vado signore mia barba capelli e sopracciglia domani io mi dimori me c'è per nuovo anche lo sai dove ti puoi attaccare al tram quando passa il tram ti si attacchi tu ti pensi che io il mio profilo te lo vengo a dare a te che sciocchino tu sei un povero sciocco però come non rispondono quando li videochiami come attacca è perché queste persone questo hacker è un ognuco è un ognuco o sapete che porti un ognuco a roma è uno che non scia le palle come rifiuta la chiamata sosocialtrone come rifiuta la chiamata sosocialtrone